Chiara, Sueva, sono al primo anno, Pasquale, più che altro per passione, mi piace molto questa facoltà e il lavoro che potrò fare un giorno. Scienze del servizio sociale, assistente sociale, è stata una scelta diciamo consigliata da un amico. Mi sono iscritta a questa facoltà perché mi piace molto il lavoro che un giorno potrò svolgere. Il settore che si occupa dei servizi sociali, le onlus, altre attività di volontariato, comunque il lavoro dell'assistente sociale adesso è più ricercato e è stato anche molto più rivalutato rispetto agli anni passati. Voglio diventare un'assistente sociale. Perché mi piace? Rispetto agli altri professori, quelli vedo molto più vicini. Nella vita bisogna avere anche delle aspettative, dei traguardi, poi dipende, se le cose si devono fare per piacere, se la persona è interessata, perché no? Il terzo settore è un settore in via di sviluppo, quindi è più facile anche per un futuro sbocco lavorativo.